Domenica 20 maggio la ditta Ciglia Eusebi di Fano in Viale Gramsci ha vinto uno dei cinque premi speciali all'interno della prestigiosa iniziativa fedeltà al lavoro e sviluppo economico curata dalla camera di commercio di Pesaro Urbino. L'intento del progetto è quello di premiare i lavoratori e le lavoratrici benemeriti per lunga e fedele anzianità di servizio e gli imprenditori e le imprenditrici che si sono distinti per aver contribuito allo sviluppo economico. Nella nostra provincia sono stati 68 di cui 11 fanesi gli imprenditori e lavoratori ricompensati. I premi erano suddivisi in categorie di appartenenza una delle quali è stata appunto quella dei premi speciali. La ditta Ciglia Eusebi è stata premiata con una targa dorata che è stata consegnata dal presidente della camera di commercio Alberto Drudi alla presenza delle massime autorità locali e regionali. Allora io volevo ringraziare il presidente Drudi della camera di commercio di Pesaro che ha organizzato una bellissima manifestazione. C'erano presenti tutte le massime cariche provinciali, comunali e anche regionali quindi è stata una cosa veramente molto bella non me l'aspettavo e inoltre noi ci hanno premiato tre premi speciali che eravamo credo in cinque quindi è stato ancora più bello. Ringrazio veramente di cuore tutti. Vorrevo ringraziare anche tutti i nostri dipendenti sia quelli collaboratori interni che quegli esterni e siccome siamo un'azienda artigianale che punta sulla qualità senza di loro senza gente qualificata non si potrebbe avere questa qualità quindi ringrazio i nostri collaboratori sono tutte persone molto brave e molto valide. Grande soddisfazione dunque per l'intera azienda familiare fondata nel 1934 da Ennio Eusebi è cresciuta con i figli Alessandro e Roberto e con i nipoti Giuseppe e Michele che da sempre si dedicano interamente al lavoro anche a discapito del tempo libero per offrire qualità serietà e assistenza post vendita. Il riconoscimento della famiglia Eusebi va agli artigiani ai tecnici e ai clienti che hanno contribuito a far sviluppare l'azienda fino a ottenere questo importante risultato. Questi anni ci siamo sempre avvalsi di personale di primo ordine quindi alla base di tutto ciò c'è stato sempre la voglia di lavorare il sacrificio e l'avvalersi di personale molto qualificato quindi questo qui va ad avvalorare la tesi del lavoro di qualità del nostro prodotto artigianale effettuato ed eseguito con la massima cura. Ringraziamo quindi tutta la clientela che in questi anni ci ha dato la possibilità di migliorarci e di evolverci fino ad arrivare a questo punto.